vittoria ce l'ho fatta 76esimo giorno senza mascherina sono riuscita a fare la spesa in negozi che giustamente non me la chiedono perché il decreto parla molto chiaro la mascherina non va messa se c'è uno spazio di distanziamento di un metro e dieci quando nelle botteghe si entra uno e uno soltanto non c'è nessun ombligo di mettere la mascherina ma tu vanno a spiegare alle centinaia 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 di persone che ho visto oggi nel corso è un corso una strada qua del mio quartiere centinaia di persone all'aperto con 25 gradi tutte mascherate ne ho contate soltanto 15 tra andate e ritorno ho fatto cinque chilometri a piedi ci ho messo due ore e mezzo di tempo sono stanca ma contenta e serena come quando facevo gli allenamenti di atletica leggera mi piace molto lo sport mi piace molto l'attività fisica e sono molto molto contenta che a 56 anni abbia ancora un'ottima forma fisica ho fatto velocità ostacoli staffetta corsa campestre frisbee sono una nuotatrice sono una dorsista sono una camminatrice e poi le vedete queste mani mani di miniera mani da contadina sono alto un metro e settantadue ho osservato che le persone in giro si stanno lamentando tutte 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 perché siamo a genova e chi un mugugno è libero quel mugugno lamento è libero dal 1400 quando i camalli lo hanno conquistato qualche centesimo in meno ma il diritto di lamentarsi però sono ridicoli perché sono incazzati neri ma con la mascherina addosso con la musaruola con la loro bella camicia nera addosso io non capisco io non li capisco veramente non li capisco perché invece di perdere tempo in chiacchiere a lamentarvi almeno almeno non vi informate un attimo leggendovi il decreto e vedendo cosa c'è scritto nella legge non lo so appuntato brigadiere non vi ho visto in giro forse perché siete ben al corrente che stiamo facendo noi cittadini italiani parlo di loro non io è loro stanno facendo più di quello che chiede il il primo ministro vero stanno indossando la mascherina all'aria aperta ho visto un bambino di sei mesi con la mascherina guardate il mio sguardo sono orripilata bene si può vincere la battaglia di un giorno e di un giorno soltanto la battaglia di oggi è vinta domani un altro giorno e si vedrà come diceva russello aria in via col vento dipende se sono ancora viva domani mattina perché non c'è certezza mai di nulla potrei schiattare appena clicco per chiudere questo video ciao